Buon pomeriggio e ben trovati 37 arresti nel clan Martorano Stefanuti colpiti i vertici del gruppo mafioso che gestiva droga, estorsione e videopoker ma che si era anche infiltrato nella gestione degli appalti grazie ad una rete di connivenze. La ministra dell'interno Lamorgese dice un duro colpo alla criminalità organizzata. Sentiamo Giovanni Rivelli. Se un povero Cristo doveva avere un lavoro, doveva andare a chiedere la grazia a un soggetto indiziato e peraltro già condannato per associazione mafiosa, beh questo è molto allarmante. Non c'erano solo estorsioni, armi, droga e videopoker per il clan Martorano Stefanuti ma anche la gestione dei posti di lavoro di un'azienda che in passato faceva le pulizie all'ospedale San Carlo di Potenza. Il tutto col compiacente assenso di parte del sindacato, col segretario della Wiltux Rocco della Luna, finito i domiciliari e subito sospeso da ogni incarico dalla Confederazione. Sono i contorni dell'inchiesta della DDA e della Scuola Mobile di Potenza che questa mattina ha portato agli arresti 37 persone, 28 in carcere e 9 domiciliari, buona parte accusate di far parte di un'associazione mafiosa. Un'associazione ampiamente riconosciuta dall'andrangheta calabrese e dei clan mafiosi siciliani, lucani e pugliesi per i PM Gerardo Salvia e Anna Gloria Piccinini. Affermazione sostenuta da fatti. Così il pentito siciliano Carmelo Navarria spiega che il potente clan Santa Paola, a cui apparteneva, considerava il boss lucano Renato Martorano un uomo d'onore di livello assoluto. E le cimici nella sala riunione del capo crotonese Nicolino Grande Aracri rivelano che agli incontri partecipava anche il reggente lucano Donato Lorusso. Gli elementi distintivi delle mafie nelle indagini ci sono tutti. La bacinelle in cui far confluire i guadagni, la parola di Martorano che era sentenza inappellabile nelle divergenze trasodali, i pizzini con le direttive passate dal carcere e dall'altro capo Dorino Stefanutti, e poi l'infiltrazione nell'economia legale. Abbiamo proceduto ad alcuni sequestri di attività commerciali riferibili a soggetti legati al sodalizio. L'attività criminosa era un'attività che aveva sbocchi anche nelle attività lecite. Un quadro allarmante ma ora ben chiaro agli inquirenti e che lascia presagire ulteriori sviluppi. Prevedo che nel futuro anche in questi territori saranno portate a termine ulteriori attività. E per i risultati già acquisiti arriva la soddisfazione della ministra dell'interno Luciana Lamorgese. L'ennesimo duro colpo dice inferto dallo Stato alla criminalità organizzata.